Ragazzi bentornati su un po' di tutto, siamo su underdain.ext che sarebbe un horror che cazzo ne so io anch'io Eeeh Secondo lato, ah no ok Allora presto livello 1, 6 Complimenti per la regina di casa Avevo flauie senza faccia, bravo, sfacciato Appare a basta così Oh mio dio flutuiamo per aria Oh my god Quella Ah, Zara, ciao Zara Che c'ha, uèh Ah Asgore morto O meno ferito che cazzo ne so Sembra che il tempo si sia fermato Ah, uèh là, Zara, come va Uèh Era un Quello non mi è piaciuto Un flau Ah, va bene Niente Ok Ok E qua Ah, ok Tutto libero Tutto libero E' un po' macabra come cosa Cioè Prima stavo dicendo Era un flauie senza la faccia Che chiedeva aiuto Credo Eh, perché non Ok E' un Vabbè sembra cementato Una roba simile Che ne so Ha notato le punte Probabilmente Questo è il corridoio vuoto Dove Ci accompagnava Non so Non mi ricordo Non so come dirvelo E credo sia quasi finito Spero Spero Per me Per voi Non c'è niente per adesso Ok Una guerra Una battaglia Con chi? Ma che cavo E questo da dove arriva Cioè Era Da dove arriva E questo qua Continua a sfercare Con il tecchio Basta che sto fermo Vai Combatti Combattilo Crepa Non è che colpito Combatti ancora Combatti Combattilo Cosa? Non puoi uscire C'è C'è qualcosa Chiamato Determinazione Oh cazzo Non mi piace Quello sguardo E' tempo Che tu muoia Verò? Non spaventarmi In questo modo Nel 99 Eh E' uscito Scusate Vedo che riapro Ok Cosa diavolo è successo? C'è comparso Chara davanti Che ci ha ammazzato Fine Andiamo un po' Che succede adesso Resettiamo Resetta Oh merda Così pensavi Che potevi Resettare Così pensavi Che potevi Resettare Eh Volevi Con lo sguardo Non mi piace Saremo insieme E staremo insieme Per sempre Ora Non mi uccidereai Questa volta Non posso Contrattaccare Eh Già Inevitabile È un vero peccato Che sia così corto Come gioco Già Pensavo fosse Più lungo Qualcosa di simile È solo Una piccola mod Modificata così Guarda Quante Bello Flowey Senta la faccia Livello Ma vera Ti è piaciuto Come Abbastanza Paurosi Qualche Jumpscare Qua Qua Forse Non so Sì Un minimo di paura A parte che Mi cago adosso Anche a vedere Un brutto esempio Ma va bene Ok ragazzi Finisco qua l'episodio Peccato che sia così corto Allora Comunque Ci vediamo al prossimo E continuate a scriverci